eccoci eccoci buonasera 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 cari amici allora è inutile dirvelo grazie 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 migliaia di auguri grazie oggi sono particolarmente stanco scusatemi ma insomma è stata una giornata nonostante non sono riuscito neanche a festeggiare il mio compleanno per l'enorme carico di lavoro che abbiamo ma siamo ugualmente felici grazie mille mi avete fatto tantissimi auguri molti di voi hanno fatto anche una piccola donazione alla nostra associazione ci consente di fare del bene di operare di dare qualche cosa a chi ne ha bisogno quindi ancora grazie chi volesse ancora fare qualche donazione ricordiamo il sito dell'associazione questo basta andare sul sito per poter aderire ancora qualche donazione grazie mille il amico fabrizio lamborghino qualche minuti fa lamborghini mi ha fatto gli auguri dicendo caro avvocato altri mille di questi giorni grazie degli auguri ma spero che questo sia l'ultimo giorno della nostra vita della mia vita con questo maledetto caos che è stato creato intorno al virus allora vi voglio ricordare che sul nostro sito stiamo continuando a caricare tutti i documenti che vi che vi servono e abbiamo già caricato alcuni ricorsi contro facsimile dei corsi contro le multe domani ne caricheremo altri caricheremo anche il nuovo il nuovo certifica la nuova certificazione di autocertificazione per chi la volesse la volesse consegnare e spiegheremo nuovamente anche dopo domani cosa significa autogertificazione chi la vuole la può presentare chi la vuole chi non vuole può presentarla oralmente perché lo prevede la legge ognuno avrà e avrà il proprio diritto vi voglio far brevissimamente vi voglio far vedere quello che sta succedendo perché mentre siamo magari offuscati un attimo da questa molle di notizie che arrivano e sento sempre persone che per fortuna hanno deciso di spegnere questi maledetti televisori che ci stanno bombardando di notizie ma spesso di notizie errate qualcuno dice falsificate noi diciamo almeno errate ma nel contempo nessuno racconta realmente il caos totale che sta avvenendo noi che facciamo noi sintetizziamo le notizie che ci pervengono e stasera vi dimostriamo senza senza raccontarvi favole ma leggendo quello che avviene e per consigliare anche a tutti quanti di di stare al massimo lontani dall'apparato burocratico amministrativo sanitario pubblico che sta ne sta ne sta combinando di folli cose veramente folli guardiamo questa piccola notizia di chi di tanti di migliaia di positivi asintomatici positivi asintomatici gente che sta benissimo che sono segregati da settimane in casa nonostante la norma preveda che al massimo ma al massimo poi ne riparleremo debbano stare dieci giorni in isolamento guardate le notizie sequestrate in casa nostra il calvario degli asintomatici in quarantena da settimane da settimane c'è gente che in casa da due mesi e non è riuscita a farsi neanche visitare guardate vi leggo vi voglio leggere una testimonianza shock shock di un amico di roma 65 anni 74 anni sintomatico guardate vi state leggendo soprattutto sui tele giornali abbiamo creato gli hotel a quattro stelle per gli asintomatici sintomatici con pochi con pochi sintomi tutto a disposizione hotel quattro stelle tranquilli non c'è posto negli ospedali vi diamo gli hotel a quattro stelle ecco guardiamo leggiamo vi faccio vedere ma lo leggiamo insieme dieci righe di quello che è successo a questa persona e a migliaia di altre persone come lui guardate dall'ospedale al covid hotel la mia odissea da malato dovevo affrontare una semplice infezione a ottobre gioacchino lascerà lo sheraton lo sheraton e l'hotel quattro stelle se non cinque dove lo avevano mandato dicendo stai tranquillo lì verrai verrai coccolato mentre ti cureremo e quindi durante le cure che ti faremo starai benissimo in hotel quattro stelle appena sono arrivato debilitato dopo 21 giorni di ricovero in ospedale mi sono dovuto fare tre piani a piedi con tre borsoni perché l'ascensore non era autorizzabile infine stremato sono ruzzolato giù dalla rampa non mi hanno dato neanche un analgesico nel frattempo ripresa anche l'infezione covid nella mia stanza a due letti ed entrambi erano sporchi uno ancora con il segno di chi ci aveva dormito ed uno con una vistosa chiazza marrone gli ospiti devono provvedere da se alle pulizie mi chiedo allora la significazione non le fanno almeno tra un ingresso e l'altro ecco è altro guardate altro cioè leggere in uno stato che dice di essere civile leggere questa questa dichiarazione di gioachino sono una vergogna nazionale una vergogna nazionale avete capito una vergogna nazionale altro che tutto organizzato tranquilli fateci sapere se siete malati vi garantiamo il massimo dell'assistenza ma non solo non solo che cosa sta succedendo stanno facendo finta di emanare dei protocolli protocolli appena state male tranquilli ci sono i protocolli per voi guarda guardiamo eccole qua protocolli per gli per gli italiani dalle medicine d'ossigeno le regole per curarsi a casa le linee guida diversi per ogni regione cioè non esiste neanche una linea guida identica identica per tutto il paese ogni regione ogni asla ogni medico decide il suo protocollo come se la mattina non fosse tutta la stessa su tutto il territorio nazionale ma vi rendete conto e dopo avere studiato per mesi la malattia qual è il protocollo guarda guardiamolo insieme il protocollo pubblicato guardiamolo insieme guardate eccolo qui due sono gli elementi indispensabili per accudire un paziente a casa l'aspirina e il saturimetro per controllare il livello di ossigeno sì avete capito bene l'aspirina questo è il protocollo per curare i pazienti a casa aspetta ve lo faccio di vedere perché se non ci credete riguardiamo le regole per curarsi a casa eccolo qui due sono gli elementi l'aspirina antipedetici per abbassare la febbre ecco come lo stato di cura ma non solo guardate che cosa sta succedendo ma è solo vedete vedete è pensabile che in qualsiasi paese normale avviene un fatto particolare in un certo momento della storia e può creare un disequilibrio può succedere perché non non c'è stato tempo di organizzarsi ci stiamo organizzando si stanno si stanno organizzando da sette mesi sono state spese non decine centinaia di milioni di euro per rafforzamento di tutte le strutture sanitarie ecco le strutture sanitarie rafforzate per la seconda ondata del covid leggiamo insieme terapie intensive verso la sogna soglia critica ecco qua piovono calcinacci in corsia ecco qua sito in blocco i tamponi saltati in fila per quattro ore poi rimandati a casa perché il sistema in tilt aspettate non abbiamo finito eh non abbiamo finito ecco qua continuiamo guardate bracciano ospedale esaurito garantite solo interventi urgenti poi andiamo alle cose ancora peggiori la regione contro il tar cioè guardate la regione ha fatto una una ordinanza illegittima il tar i giudici l'hanno bocciata la regione contro il tar perché i medici in base devono andare a casa dei clienti positivi i medici fanno ricorso perché la ordinanza è legittima la regione rifà di nuovo ricorso al consiglio del stato ma secondo voi ma è mai possibile ma è mai possibile che con i soldi dei cittadini perché sono tutti quanti i ricorsi che si pagano li paghiamo noi non è che li paga il segretario di un partito li paghiamo noi ma secondo voi una istituzione può fare ricorso due volte dopo che è stata bocciata dai giudici e ricorre nuovamente contro i medici che fanno nuovamente ricorso sono folli dite che sono folli non lo so ma è possibile andiamo avanti andiamo avanti questa non è finito guardate hanno riorganizzato tutta la nostra sanità con decine e centinaia di miliardi di milioni miliardi chi più ne più ne metta ecco qua velletri in ospedale arriva l'esercito montate le tende dei militari montate le tende dei militari ma non è finito andiamo avanti asrm 5 non riapre il dravini di subiago accinesi accinetto il sindaco il sindaco fa i test in comune no accinetto il sindaco fa i test in comune ospedale in pieno caos da bracciano deviati su cibi da vecchia no no dico questo sono questo stato di guerra non guerra per il covide guerra per la disorganizzazione totale istituzionale è quello che succede solo nell'altro in una regione vi abbiamo letto quello che succede in una regione moltiplicate per tutte le altre regioni e capirete e capirete in quale stato devastante è arrivata la sanità in italia ma ma voglio concludere questa questo esame con quello che è successo in calabria in una settimana in una settimana il grande commissario che doveva risolvere i problemi atavici della sanità in calabria dello spreco così dice il il procuratore gratteri degli imbrogli dell'andrangheta di tutto quello della malavita organizzata il commissario voluto dal governo si è rimesso perché nessuno gli aveva detto che doveva risolvere i problemi del covid e quindi dopo averlo detto in una trasmissione che nessuno glielo aveva detto ha comunicato che non è vero che aveva fatto questa intervista perché in quel momento era drogato e quindi era qualcuno lo aveva drogato senza che lui lo sapesse e quindi era errato quello che aveva detto sono pazzi non lo so allora il presidente conte il governo nomina un nuovo commissario grande commissario di altissimo livello che deve risolvere i problemi della calabria questo commissario qualche giorno prima aveva detto una serie di parolacce dicendo che scusatemi di vi dico la frase le mascherine non servono un emerito cazzo così aveva detto perdonatemi non è una mia parola e che bisogna per potersi infettare bisognava infilare la lingua in bocca di qualcun altro per 15 minuti parole del commissario scelto dal governo come grandissima eminenza che avrebbe risolto i problemi della calabria dimesso due giorni nuovamente il governo dopo aver fatto sicuramente una una grandissima ricerca tra tutti i più grandi luminari che devono risolvere il problema della calabria sceglie il professor gaudio il professor graudio o certamente luminare della sapienza di roma che la settimana scorsa è stato trombato nelle elezioni al rettore della università sapienza lo ripesca e lo nomina dopo ovviamente sicuramente averci parlato gli avranno detto quanto era il suo stipendio gli avranno detto anche che cosa doveva fare e che cosa succede ecco qua cosa succede gaudio dura meno di un giorno mia moglie non viene a catanzaro però il sottotitolo è la guerra tra i partiti fa cadere il terzo incarico la sanità in dieci giorni strada strada smentisce il governo nessuna proposta eccetera ma gaudio eugenio perché ha anche dei nobili fratelli il professore eugenio gaudio era anche famoso perché qualche giorno prima dell'epidemia che aveva che era partita da guan eccolo qui era stato premiato proprio da guan quindi un'altra fantastica scelta del nostro governo per risolvere i problemi sanitari in questo caso della calabria ma ovviamente di tutta italia in tutto questo contesto l'italia sta morendo sta morendo non tanto per il virus ma per questa immensa drammatica speculazione politica e disorganizzativa che purtroppo hanno creato come sapete stiamo lottando in tutte le sedi istituzionali tutte le sedi tutti i procedimenti che abbiamo depositato vi faremo sapere nei prossimi giorni ulteriori notizie di quello che stiamo per depositare come sapete anche il famoso ricorso per l'essarcimento del danno al governo ci vediamo dopo domani se ci dovesse essere cose particolarmente urgenti sapete che mi metterò in contatto con voi anche durante la giornata un abbraccio caro a presto e grazie degli auguri ciao